Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio, per veicoli antineve Nazione e code a tratti tra Monte San Savino e Valdarno e rallentamenti tra il Vivio con la variante di Vali con la Quercia e Aglio in entrambe le direzioni. Sempre in A1 neve tra il Vivio con la variante di Vali con la Quercia e Aglio, tra Rioveggio e Aglio, tra Aglio e Calenzano, tra Firenze Sud e Valdarno e tra Valdarno e Monte San Savino. È prevista neve sulla variante di Valico, in A1 tra Calenzano e Firenze Sud e tra Monte San Savino e Fabro e sull'intero percorso della 11. Attenzione al nevischio in A1 tra Sassomarconi e Rioveggio e tra Rioveggio e Pian del Voglio e alla pioggia in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la statale Una Aurelia e sull'intera FIPILI. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!